Audi teleascolti tv 16 ottobre 2022 12.43 Tussi che vale sbatte ancora ballando con le stelle agli ascolti tv del sabato sera e Tussi che vale sa vincere gli ascolti tv di sabato 15 ottobre Lo show di Canale 5 ha raggiunto più di 4 milioni di spettatori con uno share pari al 27.9%, battendo ballando con le stelle di Millie Carlucci che invece si è affermato 3 622.000 spettatori pari al 25% di share Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Audi teleascolti tv attiva gli aggiornamenti Tussi che vale sa conquistato il sabato sera Lo show di Canale 5 con Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Teoman Mucari ha vinto agli ascolti tv del 15 ottobre raggiungendo oltre 4 milioni di spettatori, pari al 27 9% di share Al secondo posto, un altro show che da diversi anni è protagonista della fascia serale del sabato, ballando con le stelle Il programma condotto da Millie Carlucci, giunto alla sua 17esima edizione, ha conquistato 3 622.000 spettatori pari al 25% di share Tussi che vale sa vince agli ascolti tv a sfidarsi, in fatto di ascolti, per conquistare il sabato sera sono stati Tussi che vale sa ballando con le stelle 2022 Quest'ultimo, condotto da Millie Carlucci e in onda su Rai 1, è arrivato alla seconda puntata che ha visto l'eliminazione della coppia formata da Marta Flavia e Simone Arena, la prima di quest'anno a dover lasciare lo show L'appuntamento è stato visto complessivamente da 3.622.000 spettatori pari al 25% di share Un gradino sopra è quello raggiunto da Tussi che vale sa, che è arrivato a 4 012.000 spettatori con uno share del 27,9%, migliorando anche il risultato della settimana scorsa, con l'appuntamento del 9 ottobre Gli ascolti di sabato 15 ottobre sulle altre reti generaliste su Rai 2 Blue Bloods ha interessato 704 0.000 spettatori, 3,9% share. Su Italia 1, l'era glaciale 3, l'alba dei dinosauri ha intrattenuto 704 0.000 spettatori pari al 4%, mentre su Rai 3, la nuova edizione di Sapiens, un solo pianeta parte da 774 0.000 spettatori con il 4,9%. Su Rete 4 Ri di Neri Love in Prima TV totalizza un A M. di 313.000 spettatori, 1,8%. Sulla 7 in onda, prima serata ha registrato 826 0.000 spettatori con il 4,4%. A seguire il paziente inglese sigla 165 0.000 spettatori con l'1,3%. Su TV 8 la leggenda degli uomini straordinari segna 208 0.000 spettatori, 1,2%. Sul 9 Mafia Connection è seguito da 222 0.000 spettatori, 1,2%.